buongiorno a tutti cari amici benvenuti alla puntata di oggi di 58 seconds review la mia rubrica quotidiana in cui vi racconto gli isti che più mi hanno colpito come sempre vi chiedo la gentilezza se vi piace questo format di iscrivervi al canale youtube commentare eventualmente le recensioni e mettere mi piace a quelle che vi piacciono oggi ho scelto per voi un disco della caligula un'etichetta di cui abbiamo già parlato che si intitola albatross ed è stato pubblicato da norbert dalsas e the evolution norbert dalsas è un bravissimo contrabassista e the evolution un quartetto che vede chitarra acustica ed elettrica voce ukulele trombe fricorno e batteria la cosa interessante dell'album è che ci sono dei brani in cui i musicisti suonano tutti insieme inframezzati da altri brani in cui suonano praticamente in assolo questo dà vita una grandissima varietà di atmosfere sonore che sono sempre particolarmente interessanti ed evocative e quindi vi consiglio di ascoltarlo ciao e a presto